Per la prima volta un leader dell'Unione Europea è finito nella lista dei predatori della libertà di stampa, stilata da reporter senza frontiere. Si tratta del primo ministro ungherese, Orban. Per l'organizzazione con sede a Parigi, Orban ha costantemente minato l'indipendenza della stampa, ha trasformato il servizio pubblico in un organo di propaganda e ha ridotto al silenzio i media privati, grazie all'acquisto delle società da parte di persone a lui vicine. Insomma, un giudizio spietato che il portavoce del premier bolla come una fake news. Non poteva mancare nella lista il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, considerato il mandante dell'omicidio del giornalista Khashoggi, scomparso nel 2018 nel Consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. Tra le new entry c'è anche Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile, la cui retorica contro la stampa è decuplicata dall'inizio della pandemia, scrive l'organizzazione. C'è anche la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, un burattino nelle mani del presidente cinese, secondo reporter senza frontiere. ha sostenuto apertamente le sue politiche liberticide che hanno portato alla chiusura del principale quotidiano indipendente.